E allora via al match tra Solviatese e Olimpia-Ponte-Tresa La cava cerca indietro Rossi, attenzione, corto il passaggio, si infila a scappinello Il sinistro che però termina sul fondo Parte Balconi col sinistro sul primo palo, l'errore di Catanese e l'Olimpia al tredicesimo, è in vantaggio Il lancio di scappinello è per Mondoni che si accentra, fa partire la conclusione che termina larga Anzano, in trenare di rigore, Anzano, contrastato dalla cava, attenzione, arriva l'arbitro E ammonisce per simulazione Anzano Scappinello cerca un grande passaggio, filtrante per Anzano, il tocco al centro E Mondoni deposita in rete a porta vuota, grande azione della Solvia, ventinovesimo, gol di Mondoni Scappinello si gira, contrastato ancora Scappinello, il tocco l'1-2 chiuso con Anzano In area di rigore messo giù e arriva questa volta il fischio dell'arbitro che decreta calcio di rigore per la Solvia Parte il sovrano Anzano col destro, la palla in rete, 2-1 Solbiatese quando i minuti di gioco sono 33 nel primo tempo Anzano, grande giocata di Mondoni di prima, attenzione a Scappinello in area di rigore, prova al sinistro, attento Rossi Lavora il pallone, piazza, trovato il crosta a quest'altra parte, attenzione in area di rigore, un balle col destro, alza il pallone sopra la traversa Che occasione per l'Olimpia Attenzione a Mondoni, palla in profondità per lo scatto di Mezzottero, è partito a tutta velocità, Mezzottero era di rigore Il destro è la grande parata di Rossi Attenzione a Martinoia, sullo settore di destra si accentra, prova alla conclusione deviata Pericolosissima l'Olimpia Il corner di Mondoni e manca il colpo di testa, incredibilmente Attenzione perché Pellini ha calciato via il pallone, già munito, arriva il cartellino rosso, Rosso Olimpia-Pontetresa in 10 Mondoni fa passare questo pallone, attenzione De Vincenzi, in area di rigore, l'uscita di Rossi, tempestiva sul pallone, attenzione Calcio di rigore, calcio di rigore per la Solbiatese Parte Scappinello, Rossi, che parata del portiere dell'Olimpia che tiene a galla i suoi Attenzione ancora, il pallone sul secondo pallone per Mezzottero, che però calcia fuori Rossi ha salvato l'Olimpia Mondoni va via la grande sulla fascia di destra, Mondoni mette un pallone pericoloso che nessuno riesce a deviare Attenzione a Martinoia, l'imbucata, attenzione tutto, solo Togni, e la palla termina fuori Che occasione Il rinvio di Rossi arriva, il triplice fischio dell'arbitro l'Olimpia Perde 2-1 ma si qualifica per il turno successivo di Coppa Ciao Carmine Ciao 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 Grazie a tutti.